Ciao a tutti con questa terza ed ultima guida sul Tamagotchi Mix, vediamo la fase di adulti e non solo, vediamo anche il matrimonio perché nello specifico è la cosa che si può fare da adulti. L'età adulta ci permette anche di massimizzare il nostro livello di felicità, come potete vedere l'ho massimizzato, però attenzione perché non è facile come sembra, infatti non basta come in tutti gli altri Tamagotchi solo giocare, bensì bisogna anche mangiare spesso dolci, però i dolci in questo Tamagotchi in particolare, cioè su tutti i mix, non hanno peso, nel senso il personaggio non ingrassa perché non c'è un livello di peso, come potete vedere, però può causare carie. Senza per forza spendere tutti i vostri soldi potete fare una scorpacciata di lecca lecca, o se no vabbè potete acquistare dolci come ho fatto io, questo è un dolce per esempio, e mangiare quelli o mangiarli al ristorante. Poi un'altra ottima cosa per aumentare la felicità è andare nelle destinazioni e incontrare un personaggio con il quale giocare, se trovate il giocattolo preferito del personaggio che incontrate, se ve lo portate con voi, avete più possibilità di aumentare la felicità. E questo in generale per quanto riguarda il personaggio adulto, però in questo video volevo nella fattispecie farlo sposare perché dal terzo giorno, cioè da quando diventa adulto, è già possibile sposarsi. L'importante è avere una relazione con il personaggio che volete sposare. Per esempio, vabbè, io ho incontrato Mamechi e sono già innamorati, però non posso sposare i personaggi del mio stesso sesso, per cui Mamechi non posso sposarlo, anche se sono innamorati. Poi lui, Kikichi, è solo un amico e quindi sarà un po' più difficile sposarlo, però idem, è un maschio per cui in questa generazione non posso sposarlo. E poi ho altre due, ho Mamechi, per esempio, con la quale ho una cotta, e Love Lichi, con la quale invece ho una relazione proprio d'amore, per cui penso che in questa generazione sposerò lei. Per sposarsi cosa bisogna fare? Prima di tutto bisogna munirsi di un anello, per cui andiamo al Tamadepa. Ok, entriamo proprio a vedere i negozi e poi acquistiamo l'anello, che è l'ultima opzione che si sblocca solo nella fascia d'età adulta. E qui abbiamo due anelli, uno che costa 500 e l'altro che costa 5.000. Con quello da 500 si riesce a sposare solo quelli con cui si ha una relazione proprio d'amore, mentre questo può funzionare anche con quelli con cui non siamo innamorati della serie, in questo caso si sposano per la ricchezza, non per amore. Comunque siamo usciti, torniamo al Tamadepa. Sì, 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 voglio acquistare, grazie. Sì, anello. Penso che andrò con quello da 500, dovrebbe bastare. E accetto. In realtà quando due personaggi sono innamorati, ci hanno la relazione al massimo, può anche capitare che incontrandolo, incontrando il personaggio di cui siamo innamorati, sia lui a chiederci se vogliamo sposarlo. Infatti anziché giocare con noi ci mostrerà, ci offrirà un anello. E sta a voi decidere se sposarlo o meno. Potete dirgli sì, per cui la prima opzione, scegliere la prima opzione, e in quel caso parte l'animazione del matrimonio. Potete dirgli no, e in quel caso il personaggio smetterà di chiedervi di sposarlo. Oppure la terza opzione, potete rispondergli ci penso. Il che vuol dire che non lo sposate subito, però ci sono ancora altre possibilità che in futuro, se lo incontrate, vi chieda di sposarlo. Però in questo caso voglio propormi io. Per cui andiamo a sposarci. Dove sto andando? No, è il primo. Ricordatevi la destinazione che dovete raggiungere per incontrare quel personaggio. Love Litchie è a Tamatown. Ci portiamo dietro qualcosa? No, non ci serve. Ci basta l'anello, ma è una cosa che portiamo sempre con noi. In questo caso, per sposarsi, si sblocca la quarta opzione, che è quella del matrimonio. Per cui, se clicchiamo sopra, vediamo la lista dei personaggi con cui possiamo sposarci in quello specifico luogo. In questo caso ci sono due femmine in questo luogo, per cui memecci o love litchie. Sposiamo love litchie. Siamo sicuri? Sì. Per cui mostriamole l'anello e vediamo cosa ci risponde. Però abbiamo una relazione alta, per cui dovrebbe bastare. Mi piace come diventano rossi. Sì, ha detto di sì. Ah! Adesso parte l'animazione del matrimonio. E ecco qua gli invitati. Ci sono proprio tutti, tutti i personaggi. Alcuni non li ho mai incontrati. Si possono incontrare solo in situazioni particolari. Eccoci qua con un uovo. E così comincia una nuova generazione. La mia sesta, in questo caso. Vediamo cos'è. Sbrigati. Sbrigati. E' una femmina. No, carina. Su sei generazioni ho avuto solo due femmine. Questa è la mia seconda femmina sul Tamagotchi Mix. E qua si ricomincia da capo con la fase di Bebè. E questo è quanto. Ah no, in realtà qua ci fa scegliere un nome. Potete lasciare questo qua, che vedete. Io infatti lo lascio. Oppure dargliene un altro. Va bene. Accetta? Sì. Non so cosa significa, ma va benissimo così. Prima foto di famiglia. Con la nuova generazione. Ecco qua la mia famiglia. Bellissimi. E quindi il gioco ricomincia da capo. Bene, questo è tutto per quanto riguarda le fasi di vita del Tamagotchi Mix. Se avete domande, fatemele. Appunto, se trovate altri commenti da fare sulle varie fasi di vita, scrivetemelo qua sotto. Io intanto vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e vi auguro una stupenda, stupenda giornata. Ciao a tutti! Ciao a tutti!